amici ma soprattutto nemici bianconeri buongiorno ragazzi buongiorno e buon martedì 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 lavorativo onestamente parlando ragazzi ora abbandoniamo per un attimo abbandoniamo per un attimo gli schieramenti ecco abbandoniamo per un attimo gli schieramenti cerchiamo di ragionare di ragionare soltanto per il bene per il bene di questa squadra perché ripeto quello che conta alla fine è questo il bene il bene della squadra ragazzi ma onestamente parlando voi avete il coraggio ancora di continuare con questo allenatore il coraggio avete veramente fiducia in questo allenatore ragazzi veramente ancora voi avete veramente questa questo coraggio una roulette russa questa è perché ragazzi è inutile che parliate di infortuni è inutile che dite queste cose perché uno con tutti i presenti si giocava addirittura anche peggio non siamo mai stati in corsa per lo scudetto quindi quando c'erano tutti i titolari non siamo mai stati in corsa per lo che ormai due questi infortuni sono figli del preparato della preparazione che lui con il suo staff fa e questo è un'altra spada di damo che che ci porteremo anche per l'anno prossimo se si continua con agli allegri e questo è quello che a me mi preoccupano lasciamo stare gli infortuni traumatici quello sono un'altra cosa ma qui a giro bonucci danilo barza e bernardeschi di bala chiellini delitte tutti morata tutti si sono fatti male a livello muscolare tutti tutti ma la cosa sconvolgente è quella che si diceva che mancava questa benedetta prima punta è arrivata questa benedetta prima punta è arrivata con con la fanfara è arrivata con la benedizione di tutti con l'entusiasmo di tutti ma ora come ora addirittura si sta mettendo in croce anche vlavici non perché vlavici è scarso ma perché punto purtroppo lui è questo e quindi ragazzi onestamente parlando ve lo dico ve lo dico onestamente parlando abbandoniamo per un attimo gli schieramenti perché qui ormai si si ragiona come in politica qui siamo gli schieramenti politici sembriamo pro e contro che neanche per il bene ma soltanto per avallare per avallare le nostre tesi per dire visto avevo ragione io visto non è come dici tu abbandoniamo questo questo con questo modo di pensare e pensiamo semplicemente a una una cosa che è la juventus io ripeto ragazzi ho molta ho molto veramente paura di continuare con questo alento e anche ieri ragazzi nonostante la vittoria che è arrivata per fortuna dico perché sossuolo con questi suoi giocatori deve fare questo calcio bello 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 perché deve avere questi questi schemi queste queste movenze su sul campo che la viene suonata sempre passiva a subire l'avversario ad aspettarlo e fare queste benedette ripartenze perché soltanto questo lo conosco ripeto qui è una questione veramente ragazzi è una una roulette russa questa è una roulette russa continuare continuare con questo allenatore io veramente veramente ragazzi si parla di campagna acquisti ma chi l'ha detto poi e poi chi l'ha detto siamo troppo in basso siamo troppo in basso troppo troppo in basso ci vuole veramente un cambio di veramente totale totale di mentalità e ripeto e soprattutto ci vuole un allenatore che valorizzi i giocatori in campo e vlausi purtroppo è l'ultimo esempio della del del fatto che allegri purtroppo questo non riesce a farlo bravo vi c'è l'esempio è l'ultimo esempio ragazzi l'ultimo su un piatto ve lo sto dicendo cosa 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 concerne ancora andare avanti con 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 allegri bravo c'è l'esempio lampante da grandissimo giocatore che era con la fiorentina a un giocatore normale e addirittura che qualcuno ha messo in croce quindi cerchiamo veramente di ragionare di ragionare bene bene perché veramente un altro anno così sarebbe veramente la la catastrofe nella nella maniera più totale ma se ci ingazzate fino alla fine forza giuva